Il segno della Vergine, bellissima luna, in transito nell'amico segno del toro. È una luna che mette in evidenza un po' la vostra sensibilità. Qualcuno vi ha dato degli insensibili, delle persone un po' egoiste, che pensano solo al loro tornaconto, e capita frequentemente in quest'ultimo periodo, con queste opposizioni che ci sono dal segno dei pesci. Ci sono persone che magari o non vi capiscono, oppure sbagliano valutazioni su di voi. Vi mettono anche sotto pressione. Tante volte con le vostre reazioni voi non fate altro che alimentare queste chiacchiere sul vostro conto, queste maldicenze nei vostri confronti, ma questa luna vi permette però di ritrovare anche un po' l'armonia rispetto al mondo circostante. E poi una luna che parla anche di un piccolo viaggio da fare in questa giornata. Andiamo al segno.